Oggi affronteremo un argomento davvero intrigante. Ti sei mai chiesto perché sembra che tutti ti guardino quando cammini per strada? Potrebbe essere lusinghiero, ma a volte ti fa sentire un po' spaventato. Non preoccuparti, sei nel posto giusto per scoprire cosa sta realmente accadendo. Prima di iniziare, assicurati di iscriverti al canale Dose Mentale e al canale Telegram per non perdere i prossimi video sulla crescita personale e spirituale e all'Accademia di Crescita Personale che trovi in descrizione. E ora, preparati a esplorare insieme a noi le ragioni sorprendenti per cui attiri gli sguardi. Cominciamo. Prima di tutto, esploriamo il concetto di magnetismo personale. Se attiri naturalmente molti sguardi, la tua presenza non passa inosservata. Influenzi gli altri, spesso, senza nemmeno rendertene conto. L'energia che emani, il tuo modo di muoverti, il tuo stile personale, tutti questi elementi contribuiscono a definire come vieni percepito in luoghi pubblici e affollati. Questa stessa energia che ti caratterizza può risultare tanto affascinante quanto intimidatoria. Alcune persone potrebbero trovarti estremamente interessante e attraente, mentre altre potrebbero percepire un certo timore a causa della tua marcata individualità. In entrambi i casi, il risultato è lo stesso. Attiri gli sguardi, generando reazioni di ammirazione mescolate a una leggera apprensione. La tua energia magnetica potrebbe essere particolarmente forte o distintiva, tanto da renderti un punto focale in luoghi pubblici e affollati come le strade di una città. Non si tratta solo di come ti vesti, ma anche di come ti muovi e ti esprimi. Questi aspetti del tuo essere possono attirare l'attenzione delle persone intorno a te, Questa attenzione non è sempre solo positiva o negativa. Può essere una combinazione di entrambe. Per esempio, il tuo stile o il tuo comportamento potrebbero ispirare ammirazione per il tuo carisma o per l'unicità del tuo look. Allo stesso tempo, come abbiamo detto, la tua presenza può anche generare un senso di intimidazione o timore, specialmente se la tua personalità o il tuo aspetto sembrano dominare l'ambiente. Questo può accadere perché, in modo istintivo, le persone tendono a reagire a ciò che percepiscono come differente o eccezionale, che può stimolare in loro sia attrazione sia cautela. Un altro fattore che può contribuire a spiegare perché la gente ti guarda per strada è la novità o l'unicità della tua persona, che suscita curiosità. Questo potrebbe essere legato a diversi aspetti del tuo aspetto o del tuo comportamento. Ad esempio, il tuo modo di vestire potrebbe essere particolarmente originale o audace, distinguendoti dalla massa. Potresti preferire colori vivaci, abbinamenti insoliti o indossare capi che hanno uno stile distintivo o culturalmente significativo. Anche un accessorio particolare, come un cappello stravagante, gioielli vistosi o anche un oggetto come una borsa o uno zaino con un design unico può attirare sguardi curiosi. Oltre all'aspetto fisico, anche il tuo comportamento o atteggiamento può fare una grande differenza. Ad esempio, se cammini con una postura molto eretta, con passo deciso o se hai un'espressione del viso particolarmente espressiva o seria, queste caratteristiche possono distinguerti ulteriormente. Le persone sono naturalmente attratte da ciò che non rientra nella loro quotidianità o esperienza. Quindi, tutto ciò che si discosta dall'ordinario o dalla norma suscita interesse. Questo interesse si manifesta spesso sotto forma di sguardi che possono essere interpretati come intensi o persino un po' spaventati. Questo non significa necessariamente che l'intenzione sia negativa. Spesso, si tratta semplicemente di una reazione umana spontanea alla novità. L'intensità di questi sguardi può riflettere la sorpresa, la forte curiosità o addirittura l'invidia che provano le persone nel vederti passare. In sintesi, essere diversi in un modo o nell'altro può naturalmente attirare l'attenzione e stimolare l'interesse o la curiosità degli altri. Un aspetto meno discusso, ma altrettanto importante, è la ricerca di sicurezza. In contesti urbani, specialmente in luoghi affollati o non familiari, le persone sono naturalmente più attente e osservano con maggiore attenzione chi è intorno a loro. Questo atteggiamento di vigilanza è parte di un istinto di autopreservazione. Ognuno di noi cerca di valutare se l'ambiente in cui si trova è sicuro. Se hai un aspetto o un comportamento che ti distingue, che sia per il modo in cui ti vesti, per il tuo comportamento o per qualsiasi altra caratteristica percettibile, potresti attirare più sguardi. Questi sguardi non necessariamente significano che c'è qualcosa di sbagliato in te. Sono piuttosto una reazione istintiva delle persone che cercano di capire se ciò che è diverso o insolito rappresenta una minaccia. È un comportamento umano fondamentale, volto a garantire la propria sicurezza in un contesto sconosciuto. Infine, i media e la cultura pop hanno un ruolo significativo nel plasmare le percezioni e le reazioni delle persone. Film, serie TV e altre forme di media popolari spesso stabiliscono modelli o stereotipi che influenzano come vediamo e interpretiamo stili, comportamenti e anche intere sottoculture. Ad esempio, un certo tipo di abbigliamento o acconciatura può essere fortemente associato a un personaggio famoso o a una tendenza culturale specifica mostrata frequentemente nei media. Se il tuo look o il tuo comportamento assomiglia, anche vagamente, a quello di un personaggio popolare o di un'icona culturale, è probabile che questo susciti una reazione immediata nelle persone che incontri. Queste associazioni possono attirare più attenzione verso di te, sia in senso positivo che negativo. Alcuni potrebbero essere attratti da quello che percepiscono come cool o alla moda, mentre altri potrebbero reagire negativamente a causa di pregiudizi o associazioni negative. In entrambi i casi, è il potere che i media hanno di influenzare le nostre percezioni subconsce che modella tali reazioni, dimostrando quanto profondamente la cultura possa influire su come interagiamo e percepiamo le altre persone nella vita reale. Quindi, la prossima volta che ti senti osservato mentre cammini per strada, ricorda che possono esistere molte ragioni dietro quegli sguardi. Potrebbe essere la tua energia unica, qualcosa di visivamente distinto su di te, o semplicemente la manifestazione della natura umana in pubblico. L'importante è continuare ad essere la tua migliore versione. E tu? Ti sei mai sentito osservato? Facci sapere la tua esperienza nei commenti. Grazie per aver guardato il video. Speriamo che tu abbia trovato queste informazioni utili e interessanti. Se è così, ricorda di lasciare il tuo prezioso mi piace e di iscriverti al canale Dose Mentale per più contenuti come questo. Condividi il video con chiunque pensi possa beneficiarne e accedi all'Accademia di Crescita Personale che trovi in descrizione per iniziare da oggi il tuo cambiamento verso una vita più calma e consapevole. Ricorda, sei unico e proprio questo è il tuo superpotere. Ci vediamo nel prossimo video.